Iscriviti al canale! Qua bisognerebbe prendere Milaos, sapete che con le quest Bigolo è orribile? No, ho preso Milaos, voglio provarlo. Scusate se ho skipato Bigolo, chiedo scusa a tutti. Chiedo scusa al mio pubblico. Chiedo umilmente scusa. Ma voglio provare Milaos con le quest. Ne ho necessità. No, dai, non spammate, dai. Guardate, vedete che bello che è Milaos? Dai, 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 dai. No, no, non potete riprendervi la stab. No, 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 dai. No, dai. Dovete essere... Dovete supportare. Ma che frizzo. Che me ne faccio? Cioè... C'ho già i Orghiatis. No, 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 no. Voglio... Così meglio. Tipo questi. Anche pensate di livellare. La moglie è venuta a dirmi che Giulia ha fatto la cacca nel vasino. Uh! La cacca nel vasino! Che bimba potentissima, capire. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Non so se prende il mio Orghiatis adesso. Sarebbe molto figo se io trovassi una naga. Giulia lo guarda a Temptation Island. Ovvio, chi è che non guarda Temptation Island? Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Va tutto bene, piccola. Cazzo. All'ultimo secondo. Che play ha qui, eh? Ma non è brutto c'è. Aumenta le statistiche con il tuo servitore con il 16 volte. Secondo me questo... Con questo shop è ottimo. Sempre meglio avere qualche servitore da giocare. Ma non è piccola. Ma non è piccola, ma non è piccola. Non so se voglio giocare lei. Cosa cambia non giocarlo? E al prossimo turno io posso fare il livello compri un pezzo. E metterlo. E perché questo turno secondo me non mi serve? Al prossimo turno invece magari potrebbe servirmi un pezzo migliore di una goccia. Non è minchia, però questo è forte. Oh, non ho aspettato. Che cosa ti fai? Ehi, c'è qua. Ehi, c'è qua. Ehi, c'è qua. Come va là fuori? Ehi, quanto è un bait quella tripla? E che potrei già fare la quest? Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Siamo? Oggi non posso far entrare altri servitori più forti ora. Mi assicurerò che questi rimangano qui per la prossima volta. Ok. Non sono stato super clean. Non è comunque questa gente come sta arrabbiata, oh. E' un po' è da gigantesca, eh. Per essere t5. Ottimi questi gold extra. Cerca. Poi sarò debole. Su cielo. No. Ah. Che brutto. Che tripla renda. Fatto è che il prossimo turno io non so se il barone sarà utile. Quella è la questione. Considerando che io compio tutti i cinghiali Che mi pariano davanti Sono un po' triste chiaramente Molto triste Che ci dobbiamo fare Ok Ok Eh vabbè Hai mai conosciuto la lega degli esploratori, bravi ragazzi, capelli stupendosi Balla adesso se ne ha il coraggio Non perde Pois Non fa niente Capita a tutti ogni tanto Arrendiamo le cose più piccanti Vi asco una giornata a canacciarle Dei Akkari serve una mazza, vero? Lui magari è buono Sai prendere i lak e giocare una build un po' Un po' Un po' Un po' Devevi anche darmi qualcosa Lasciatelo dire Sei indeciso se prendere Matteona o la Quattroquattro Siamo in gioco a 4-4 Un po' Un po' Un po' Un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Il mio flusso è imbattibile Anche a me non piaceva Eccoti una moneta di oro per il disturbo Un po' 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 Ha tutto doiato Va bene il maestello ma lui ha tutto doiato Cazzo è possibile Mi piace il tuo modo di pensare Sempre meglio avere qualche servitore da giocare Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro per il distruttore Assoldando quel servitore otterrai una tripla Mi piace il tuo modo di pensare Ora si che si ragiona Allora Aaaaaah Il tempo il tempo il tempo Dille capito Alcune centocentro Ah ma il telegenesi funziona con Mayakas È vero è vero è vero Ecco perché Le sconfitte che non ti uccidono Ti rendono più forte Assolda pure una di queste reclute Sì 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 Ok Sì Per me è che io sono anche in infinito ma non ho Riesco a generare cioè il tempo non è abbastanza Questo è il problema, che osso Eh, ho sbagliato Ho preso una sbagliata Meglio assoldare una reclutanti Che puoi farlo Anche a me non piacerà Eccoti una moneta d'oro per il disturbo Quello potrebbe fare la differenza Serve da bene Mi piace il tuo modo di pensare Beate i besti Bella scelta Molto tattica Cento conchiglie e cingolure Serve da bene Siete su un suolo sacro Prendete un bel respiro Prendete un bel respiro Prendete un bel respiro Prendete un bel respiro Ho mancato il phase Qui non l'ho fatto Qui non l'ho fatto è comodo Prendete anche lui Che sì, ma il te lo doyato Con le mai accassi Ragazzi è bello Che Mantieni la pressione Assolda pure una di queste reclute Una corona degna di me Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Speriamo basti Continua così Forza Che ragazza di game Sono contento Lui li perde Due Tra i cento Tra i cento Bella scelta Molto tattica Bella scelta Molto tattica Meglio Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Mi piace il tuo modo di pensare Stai andando bene Mi mette un po' bello Tenere tutto in mano Mi mette un po' bello Che game Ma è pazzesco Pazzesco Non è neanche combattuto Però è stato bello Non è vero Mi mette un po' bello E' un po' bello E' un po' bello D'altro E' un po' bello Ma è un po' bello